Ed eccoci qui pronti a parlare ancora di coppie VIP che sono stati paparazzati, quindi automaticamente beccati. Parlo di Ilari Blasi e il fidanzato Bastian che sono a quanto pare usciti allo scoperto, nel mese di gennaio però, so che è passato un po' di tempo. Ma anche la conduttrice dopo l'ex marito Francesco Totti ha cambiato, ha cambiato pagina, l'ha fatto in maniera proprio definitiva e fortunatamente ha ritrovato il sorriso grazie a un altro uomo. Dico fortunatamente non per Totti, ma nel senso che non è bello che una donna sia totalmente sola, tra l'altro immersa nei suoi pensieri. Ma come ben noto, dopo il clamoroso annuncio dello scorso luglio, quello in cui la coppia annunciava proprio l'addio, l'ex calciatore ha ufficializzato la sua storia con Noemi Bocchi. Dopo mesi di silenzio, anche Ilari Blasi e il nuovo fidanzato Bastian hanno deciso di uscire allo scoperto e vivere la propria storia alla luce del sole. A novembre il magazine che aveva pubblicato le foto della nuova coppia. I due erano stati paparazzati in un lussuoso hotel di Zurigo. Poi Ilari Blasi e il fidanzato Bastian erano stati avvistati di nuovo in vacanza, a DST, Moritz, e lì era scattato il bacio pubblico. In quell'occasione Ilari Blasi era in compagnia della figlia Isabelle e della sua amica Michelle Unziker. A fine gennaio la fuga romantica a Parigi, e la prima foto Instagram in cui compariva il tag bus, MOOP, l'account social di Bastian Muller. Ma chi è il fidanzato di Ilari Blasi? A dipingere il quadro di Bastian Muller ci ha pensato il settimanale oggi. Se in Italia si parla di ricco ereditiere e uomo d'affari, in Germania spunta un'altra verità. Bastian Muller Pettenpol, 36 anni, tedesco, lavora al numero 26 della Poststrasse, a Wachtersbach, 60 km da Francoforte sul meno, dove i Pettenpol hanno casa e azienda. Un'azienda, un po' più di 2 milioni di euro di fatturato, 16 dipendenti e oltre 500 mila euro di utili nel 2021. Ma ha anche debiti bancari per circa 1,5 milioni, di cui un milione a breve, cioè da ripagare entro un anno. E poca liquidità in cassa, appena 60 mila euro, si legge su oggi. Come spiega il sindaco della cittadina al settimanale oggi, non sono più i Pettenpol di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine 800. Negli anni 60 lavoravano anche in Medio Oriente. Dal 2007 al 2015, cioè dall'età di 21 anni, il fidanzato di Ilari Blasi ha infatti lavorato a ST. Moritz come Butler, come nell'ambiente si usano chiamare i maggiordomi. Come riporta oggi, nel 2015 ha anche avviato un'attività per la realizzazione di segne luminose e ha riaperto l'hotel Lorosch di Beddo RB, una vicina località termale.